Il pallone in buona posizione, attenzione al Mantova, Paudice lo scarico sull'esterno, la conclusione della gran botta, il pallone in rete, il vantaggio del Mantova, ha segnato Silvestro, il gol di Silvestro al secondo minuto di gioco della ripresa, azione travolgente del Mantova, ma grave errore in fase di possesso da parte della Pro Sesto che con Marchesi ha dato in là a una ripartenza avversaria e alla prima vera occasione della partita il Mantova è passato in vantaggio con la gran conclusione di Silvestro.